Gino, allora adesso ti offro io uno spuntino romantico. Ehi, stronzone! Parli con me! Dio un po', non sei tu il tizio che ha sbattuto un cucciolo fuori dalla macchina qualche giorno fa? E te che te ne fai? Sono un amico degli animali. È vero? Sì. Allora, senti, se non ti fai i cazzi tuoi, io metto te dentro un sacco e poi ti butto nel fiume. Che ne dici? Sei un duro, eh? Certo, vedrai fino a che punto. Arraggio, allora. Le mie palle!